Il calvario del dottor Dallari ha processo il 17 dicembre per omesso soccorso per la morte di un paziente Covid di cui invece fu l'unico a prendersi cura. Ma le parole di Anelli in commissione lo scagionano. La vicenda di Dallari fece un gran clamore nell'ottobre 2021 quando il medico, già dirigente del Dipartimento di Emergenza Urgenza del Santa Maria di Reggio, venne raggiunto da un avviso di garanzia della procura di Ferrara per la morte di un paziente, Mauro Gallerani. Un paziente difficile, con diverse comorbilità e che era stato letteralmente abbandonato a se stesso dal suo curante, ma che trovò in quei giorni terribili del paracetamolo vigile attesa un medico in grado non solo di ascoltarlo, ma anche di visitarlo seppure a distanza, seguirlo nella terapia e che allertò lui per primo le usca e il pronto soccorso quando si rese conto che la sua situazione non migliorava. Il povero Gallerani era ormai affezionato al dottor Dallari tanto che dal suo letto di ospedale a Cona, in provincia di Ferrara, non smise di chiedere proprio a lui di portarlo via da lì perché qui non mi curano, diceva, mi porti da lei in ospedale. Come faccia quindi ora la procura estense a sostenere l'unico capo di imputazione rimasto in capo a Dallari di omissione di soccorso è davvero un mistero, dato che se c'è qualcuno che si è prodigato per il poveretto era stato proprio Dallari. Invece finì sulle prime pagine. La polizia gli setacciò il computer e il telefono e la sua immagine ne risentì, ma lui rimase al suo posto. Già l'accusa di omicidio colposo era caduta prima del dibattimento e quando il primo ottobre si è aperto il processo in tribunale a Ferrara con la Costituzione delle parti, a lui è rimasta solo questa assurda imputazione. Fu l'unico a prendersi cura di Gallerani, ma deve rispondere di non averlo curato. Nella prossima udienza del 17 dicembre, l'avvocato di Dallari, Linda Corrias, avrà il compito di mettere nero su bianco, dunque, tutti gli elementi per smontare l'accusa. E probabilmente, secondo quella che al momento è un'ipotesi difensiva, verrà richiesta l'acquisizione delle parole di Anelli pronunciate in occasione della seduta della Commissione Covid. Del 6 novembre scorso, dove per schivare le critiche sull'appiattimento dell'abbandono terapeutico, Anelli si è lanciato in una inverosimile difesa della libertà prescrittiva. Quando tutti invece hanno capito che i medici che curavano e proponevano approcci empirici come Dallari, sono stati vessati. Trattati come stregoni, disincentivati, censurati dai rispettivi ordini, salvo poi adesso scoprire che avevano ragione ad affrontare il Covid di petto con terapie precoci domiciliari. Il processo di Ferrara ha tutta l'aria di essere un processo alla libertà di cura e alle terapie domiciliari precoci anti-Covid, che devono ancora scontare i pregiudizi e narrazioni dell'infotrofo pandemensa. Ma se le procure proprio vogliono cercare un'omissione di soccorso durante gli anni scorsi, si rivolgano allo Stato e le sue istituzioni sanitarie. E non ha quei pochi medici. Come il dottor Dallari, che hanno provato eroicamente a curare i malati nella difficoltà di un contesto ostile e talvolta criminale.